ciao a tutti sono kg64 e sono tornato allora so che vi state facendo delle domande tipo perché sono così la risposta è semplice ho voluto tipo cambiare creare un personaggio tutto mio e ovviamente sono vivo non è che sono morto non voglio abbandonare il canale solo che sono stato impegnato per alcune cose però sono cose meno quindi a voi non vi interessa comunque cercherò di fare dei video almeno non so almeno una volta a settimana ovviamente poi vedrò non avrò il tutto il tempo del mondo ma vi prometto che vi porterò dei contenuti divertenti almeno spero e niente io sono kg64 o qualcosa del genere e ci vediamo bye iscriviti